Grazie a tutti. Edito da Marco Staglia nel 2020. L'anima, ah, riassumo. Ci amammo follemente, ci lasciamo senza dire niente. Quello splin che da tutto mi tiene, mi teneva in esilio. Bene. Capite, dicevano i suoi occhi, perché non volete capire? Ma di far la prima mossa nessuno ebbe l'ardire, volendo troppo cadere insieme in ginocchio. Riuscite a capire? Dov'è lei a quest'ora? Forse ti addolora. Dov'è lei a quest'ora? Ti scongiuro, curati allora. Oh, freschezza dei boschi lungo la via, ogni anima è un po' in ascolto. Oh, scialle di malinconia, com'è invidiabile la vita mia. Questo imperiale di diligenza sa di magia.